Ancora un'edizione all'insegna del successo per il Festival dell'Economia di Trento. Due premi Nobel, due ministri ed un numero di esperti provenienti anche dalle più prestigiose università del mondo per un totale di 189 relatori e 50 moderatori che hanno animato 102 eventi del programma. Mi pare di poter dire che il Festival conferma le sue grandi potenzialità in termini di partecipazione, in termini anche di capacità di essere in prima linea con i temi del momento direi. Il tema quest'anno della salute è stato ricco di spunti, devo dire che è stato un modo anche per trattare temi che con la salute possono essere anche poco collegati, però mi pare di poter dire che si sono affrontate tematiche di carattere locale, di carattere internazionale, di carattere nazionale, molto intrecciate anche con scelte politiche importanti e insomma penso che abbia dato come sempre un suo bel contributo al dibattito che è uno degli aspetti più importanti della democrazia. Sono molteplici i dati che dimostrano il successo del Festival. Primo fra tutti la considerevole partecipazione sia di relatori sia di pubblico, un pubblico sempre presente e molto giovane che ha riempito costantemente le 13 sale del Festival. Ci sono stati più eventi che in passato, abbiamo avuto in alcune situazioni anche 15 eventi in contemporanea, eppure li ho visti tutti molto partecipati e con domande dal pubblico anche molto ricche. I temi che sono stati affrontati sono tutti temi molto importanti per la vita quotidiana delle persone, perché certamente il generale titolo lo spingeva in questa direzione perché la salute è qualcosa che gli interessa a tutti. Abbiamo parlato di come si può cercare di ridurre quelle disuguaglianze nella longevità, nella durata della vita sana che sono presenti anche nel nostro paese. L'aumento di importanza e internazionalità del Festival è confermata dalla partecipazione di più di 37 esperti stranieri nelle conferenze e dalla traduzione simultanea di 33 conferenze in inglese e tedesco. Parlare di salute vuol dire mettere insieme economisti con medici, operatori sanitari, persone che avevano un'idea molto chiara e molto interessante di come la vita dei cittadini viene condizionata dai meccanismi anche economici che governano la sanità. Bisogna conoscerli, capirli, discuterli. Lo si è fatto con grandissima franchezza, con opinioni anche a volte opposte, ma sempre basandosi su analisi rigorose, su dati. Il Festival Economia è un grande cantiere della democrazia e questo credo che sia utile per i trentini ma per tutti gli italiani. Sono state 96 le dirette web di cui 25 in lingua inglese grazie alle quali è stato possibile seguire il Festival in tutto il mondo. Secondo me è andata bene, anche quest'anno abbiamo visto un pubblico attivo, presente, le sale piene, domande, vivacità, interesse che sono un po' le cose che il Festival cerca di generare e mi pare che la risposta come sempre si tratta buona. Bisogna anche dire che poi nel tempo l'evoluzione della tecnologia cambia anche il modo in cui le persone partecipano al Festival. Quest'anno abbiamo avuto 50.000 accessi in streaming, quindi questo è un numero molto grande. Ormai penso che il pubblico in remoto supera il pubblico in presenza fisica, non perché cali quello in presenza ma perché cresce moltissimo con loro che magari stando a casa possono vedere le cose di loro interesse. Anche questo è un modo diverso in cui le persone partecipano al Festival. Direi un grande interesse, molte persone coinvolte, molte scuole, quasi 140 scuole hanno partecipato al concorso organizzato quest'anno da quasi tutte le regioni d'Italia. Mi sembra che possiamo dire che siamo contenti, poi faremo magari i conti sui numeri più precisi nei prossimi giorni, ma mi pare che si possa essere soddisfatti. Tracciando un bilancio del Festival, il presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi, ha voluto ricordare le vittime dell'ennesimo attentato terroristico. Dal Festival è stato detto può partire un messaggio di speranza. Ci auguriamo che possa avere anche questo significato. Certo che è sempre più difficile immaginare di poter organizzare degli eventi e avere una tranquillità per le persone che partecipano essenzialmente. Fortunatamente devo dire che nel nostro paese insomma non abbiamo grazie a Dio e grazie credo anche al lavoro ottimo delle forze dell'ordine non abbiamo ancora avuto episodi così eclatanti come quelli che si sono avuti in Europa in questi mesi. Questo non significa però che non dobbiamo assolutamente abituarci a quello che è successo e quindi approfitto anche di questa occasione per ricordare a tutti come guai se dovessimo abituarci a gesti di questo tipo. 338 giornalisti, operatori e fotografi accreditati dall'ufficio stampa della provincia. Di questi oltre 300 presenti a Trento e provenienti da Italia, Germania, Svizzera, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Serbia, Brasile e Cina in rappresentanza di 149 testate giornalistiche.